Oh no! Allora, io magari ho i cunfie, ma non ho sentito nulla! Anch'io, sento i cunfie, non ho sentito la bellissima cosa che tu hai detto! E non si vince! E allora, guarda, faccio la musica! Guarda! Così non veniva a punto! Uno, due, tre! Oh, allora! Eh, allora! C'era, c'era, c'era l'applauso! Ci siamo! Allora, Albe, intanto manda avanti! Tre alla volta! Tre alla volta, anche tre! Piaconcini Odera! San Sampling! Vivo zironi! Camille Ferrari! Lugia beltana Michi Monti! Clifangelo per l'attacca! Attenzione, attenzione, attenzione! Davide Rossi! Cano Canesana! E Ivan Zuccolli! Al top, al top! Il top! Occio! Super Camilli! Cosa ha fatto? Magno idea! Mamma mia! E' una volta! E' una volta! E' una volta! E' una volta! Un aplaudo! A Mr. Spazio! Andiamo! Per la Markman! E' una volta! Hai visto? Perché quella infornale! Quella è per la! La estima era, tutta bianca con bagliare d'oro! Per bagliare d'oro! Hai visto la creda di dire guarda come spicca! Il Porco gold! Ok? E quelle infornale invece erano frecchio! Con il gold e vinni! E' una volta! Grazie.